Ciao ragazzi, ben ritrovati, buona serata. Oggi è terzo video, terza volta che ci vediamo insieme ma non potevo fare altro che registrare un nuovo video. In realtà avevo intenzione di pubblicare, di registrare qualcosa da pubblicarvi domani mattina e quel qualcosa era le parole di Calvo del pre-partitato che non le abbiamo analizzate, non le abbiamo commentate e questo diventa quindi il contenuto che vi porterò domani, ma nel frattempo prima devo pubblicare qualcos'altro perché mi ero appena seduto al computer, stavo ricercando le parole di Calvo e mi entriamo a Twitter. Eccoci qua, mi è apparso questo link, voglio proprio mostrarvelo, mi è apparso questo link di Gianluca Di Marzo, infatti l'ho anche ricondiviso tipo un minuto dopo la pubblicazione su Twitter. Manovra e stipendi, deferita la Juve, il comunicato. Io non ho ancora letto questo articolo, però meno male ho capito che cosa c'è al suo interno e quindi ci aspetta un nuovo processo sportivo, molto probabilmente a giugno. Andiamo a leggere insieme ma il procuratore federale Chinè ha deferito la Juventus altri dirigenti tra cui Agnelli, Nedved, Paratici e Cherubini. E quindi il vecchio CDA della Juventus di cui avevamo già parlato mesi fa per la questione legata alle plusvalenze. Il procuratore federale Chinè ha deferito la Juventus nell'ambito delle indagini a manovra stipendi 2019-2020, 2020-2021, il filone agenti e il rapporto di partnership con altri club. Insieme alla squadra sono stati riferiti anche Andrea Agnelli, Nedved, Paratici, Cherubini e altri dirigenti juventini. Per quanto riguarda la manovra stipendi per quella stagione 2019-2020 viene contestata la riduzione di quattro mesi d'età marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Per 21 giocatori di Maurizio Sarri senza depositare gli accordi economici di integrazione. Per la stagione successiva sono 17 i casi contestati. Per i rapporti con gli agenti sotto lente della procura federale sono finite ben 14 operazioni. Infine, sui rapporti con gli altri club, sono stati violati i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione al fatto di aver trattato, sottoscritto o comunque pattuito con le società Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari accordi confidenziali a venta d'oggetto operazioni di mercato. Questa è una parte del comunicato reso noto dalla FIGC. Il procuratore federale Giuseppe Chinè, in relazione all'indagine, trasmissione degli atti da parte della procura della Repubblica di Torino, contenuti nel fascicolo posto a base dell'avviso ex articolo 415 bis e messo in data 24 10 2022 a carico della società Juventus S.P.A. dei suoi tesserati, esaminati gli esiti dell'indagine penale e gli atti acquisiti dalla procura federale della Repubblica di Torino, valuta l'istruttoria svolta in ambito disciplinare. E vista la proposta del procuratore federale aggiunto Giorgio Ricciardi e dei sostituti procuratori federali Luca Scarpa e Alessandro Doria, ha deferito al Tribunale federale nazionale sezione disciplinare la Juventus a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6,1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per atti e comportamenti posti in essere dai propri dirigenti. E quale viene contestata, eccolo qua, questo è il punto importante di questa manfrina che vi ho proposto fino ad adesso, la violazione dell'articolo 4,1 del Codice di Giustizia Sportiva per diversi atti e comportamenti relativi a quattro diversi aspetti oggetto dell'indagine. La manovra stipendi 19-20, quella per la stagione 20-21, il filone agente e rapporti di partnership con altri club per i quali di seguito viene riepilogato l'esito dell'indagine. Nel deferimento tra l'altro sono dedicati i 131 documenti, atti verbali, contratti e corrispondenza via mail rilevati ai fini dell'istruttoria. E' un momento duro, è un momento difficile, dentro e fuori dal campo. Se dentro il campo abbiamo raccontato tutto quello che è accaduto nella partita di ieri, nella serata di ieri, tutta l'amarezza di quello che si porta dietro una stagione davvero deludente dal punto di vista sportivo, e ora sono molto preoccupato invece per quello che avviene fuori dal campo, nelle aule dei tribunali, e questa è una notizia che assolutamente avrei evitato di leggere e a maggior ragione oggi, perché ragazzi il futuro non è rosio, il futuro è molto preoccupante, infatti le parole di Calvo erano interessanti da analizzare proprio per questo discorso qua. Fra tre giorni, lunedì 22 maggio 2023, la Juventus saprà quanti punti di penalizzazione otterrà per via della questione legata alle plus valenze. Ci sarà un nuovo processo sportivo, probabilmente a giugno, per via di questa cosa invece legato alle manovre stipendi, ai filoni degli agenti, ai rapporti di partnership con gli altri club. Cosa significa? Che la presenza dell'articolo 4,1 del codice di giustizia sportiva chiama un'altra penalizzazione in classifica, e sappiamo solitamente che le tempistiche della giustizia sportiva sono molto celerie. Quindi abbiamo due possibilità, che la Juve vada a subire una doppia penalizzazione all'interno della classifica di Serie A 2022-2023, e apre e chiude una parentesi, perché qui non ho idea se saranno tutti buttati qua ai punti di penalizzazione, o appunto l'altra cosa è una nuova penalizzazione alla stagione 2023-2024, io dico la mia, probabilmente alla Juventus conviene scontare la pena tutta in un'unica stagione sportiva, perché tanto perdere la Champions un anno sembra quasi ormai scontato. Il problema poi dipende di capire quanti saranno questi nuovi punti di penalizzazione, il tipo di pena afflittiva che verrà appunto buttata nei confronti della Juventus, perché magari ne toglieranno, che ne so, una decina, 12, per una questione di plus valenza, e sto sparando numeri a caso, si iniziano a diventare altri, non lo so, questo mi sembra decisamente più grave, se i fatti contestati di Juventus verranno confermati all'interno del processo sportivo, questo mi sembra decisamente più grave, e quindi se il discorso della teoria di plus valenza è una quindicina di punti, una decina di punti, questa roba qui, e poi più grave, tra virgolette, nel senso che poi, ripeto, siamo ancora completamente all'inizio, però quello che viene contestato alla Juventus non è tanto aver non pagato i giocatori, aver trattenuto, no, non è questo, senza aver depositato gli accordi economici di integrazione. Perché non l'hanno fatto? Eh, qua io ragazzi, qua alzo le mani, posso limitarmi semplicemente a commentare questa notizia, che arriva nel momento sbagliato, perché arriva al termine di una stagione disastrosa, arriva quasi all'antivigilia di una nuova penalizzazione in classifica, e mentre la Juventus si lecca le ferite, probabilmente cerca di capire come affrontare la nuova stagione sportiva, quindi come costruire col direttore sportivo, con quali allenatore, con quali giocatori, eccoci qua, una massata tra capo e collo, che fa soltanto che male, fa soltanto che male. Quindi vedremo se tutte le penalizzazioni verranno utilizzate, verranno buttate all'interno della stessa classifica di Serie A del campionato appena concluso, che si andrà a concludere, perché manca veramente tre partite, o se un pezzettino in questa stagione, che andrà a rovinarci questa stagione, un pezzettino nella prossima stagione, che andrà a rovinarci la prossima stagione, e anche quella dopo, perché poi rischi ancora una volta di non qualificarti le Coppe Europee. Molto male, molto molto male, sapevamo che sarebbe poi arrivato questo momento, non mi aspettavo che potesse arrivare oggi, e questo è un momento davvero duro per i tifosi di Juventus, cerchiamo di farci forza e se ci saranno nuove informazioni, poi nella giornata di domani cercheremo di fare il punto, anche, ovviamente, prendendo in considerazione le parole di Calvo, che secondo me sono state molto importanti.